Arrestelli a Draguzinati, l'errore di Paco Rabanne prima dello stacco. Panama scava al caffè tra club, in terza posizione prestigiosa a KBG. Poi all'esterno Preziosus su Pontida e Panthea Club. Rabanne, 13 e 5 per il lancio con Panama avanti a Fedra Club. Continua all'esterno Panthea Club. Si esce dalla curva con Panama avanti a Fedra Club, in terza posizione prestigiosa a KBG su Pontida. Sempre in fuori Panthea Club nella cui scia c'è Preziosus, 29 e 2 il quarto iniziale. Passa Panthea Club, Panthea Club avanti a Panama in terza a Fedra Club. Poi prestigiosa a KBG, Preziosus, Pontida, Parisian Bar, Perge del Rio. Più indietro Paco Rabanne al momento, giornata no per settimie mollo. Panthea Club all'avanguardia, gli altri in pila indiana con l'eccezione di Preziosus e Parisian Bar che sono appunto all'esterno. Secondo quarto in 31 e 4, quindi 18 la media per la prima parte di gara. Con Panthea Club a procedere Panama in terza posizione Fedra Club. Migliora Parisian Bar che ora in scia a Perge del Rio. Sbaglia però Parisian Bar, quindi c'è tre per completare il giro. L'errore anche di Perge del Rio. Panthea Club avanti a Panama. Poi Fedra Club, quindi ancora prestigiosa a KBG. 28 e 9 la terza parzione. Completamento della curva, ingresso in dirittura. Panthea Club precede Panama. Poi Fedra Club, quindi prestigiosa a KBG e Pontida. Panthea Club prova all'allungo. C'è in recupero dal gruppo prestigiosa a KBG. In chiara evidenza Panthea Club. E allora Panthea Club e poi prestigiosa a KBG. Panama, Pontida e Fedra Club. 28 e 7 il quarto conclusivo. 1,58 e 2 il tempo totale. 13 e 9 la media al chilometro. Questa volta senza errori nella fase conclusiva. Sbaglia ancora però adesso. Panthea Club la porta dunque a casa. Totalizzatore 2,18.